ciao a tutti oggi vi voglio far vedere come fare questo fiore siccome mi servono dei fiori shabby che sto facendo un album e ho deciso di farvi anche il video tutorial per realizzare questo tipo per realizzare questo tipo io ho usato questo attrezzino qua vedete che si chiama bloom impression ed è della marion smith io lo trovo molto utile diciamo che lo uso spesso per fare i fiori perché fanno questo vedete questo questa forma così poi mi serve io ho questo per colorare poi oppure potete usare anche questo vedete poi in questo caso se usate questo vi serve anche dell'acqua io l'ho messo in questo spray mentre se usate questo non serve l'acqua poi ci serve dei fogli io in questo caso ho preso dei fogli di un libro perché come ho detto deve venire così vedete è un po sciagli quindi ho preso dei fogli di un libro vecchio poi se volete io ho usato questi in questo in questo qua in qui vedete 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 in mezzo ma vedete ne avevo fatti altri per fare questi ho usato dei pistilli vedete e questa è la vostra scelta quello che volete mettere in mezzo poi abbiamo bisogno io ho una penna una matita un paio di forbici la pistola a caldo e lit gun quello che serve per le imbosse bene detto questo iniziamo allora io in questo caso vi faccio vedere come tagliare a mano però se avete la silhouette o se avete anche la biglia ci sono per la biglia anche delle fustelle che fanno questo tipo di fiore diciamo questo fiore, questa base però io ora ve lo faccio vedere per chi non avesse né la cameo e né la big allora io mi sono fatta dei disegni di petali di diverse misure per avere un riferimento ora vi faccio vedere come fare con questo allora dobbiamo piegare, dobbiamo prendere un quadrato di carta, io in questo caso lo faccio così piego la punta e mi taglio il mio quadrato ed è questo, vedete? una volta fatto questo lo lasciamo piegato così e dobbiamo piegarlo in altre tre parti e quindi faccio in modo, vedete, deve venire il primo pezzo lo portiamo nella parte opposta vedete così e marchiamo l'altro pezzo dobbiamo piegarlo e deve venire pari a questo quindi in corrispondenza a questo lo pieghiamo e lo mettiamo a pari, vedete? ok? lo riapriamo ed ecco qua e questo deve essere pari fatto questo ci prendiamo il nostro petalo in questo caso prendo questa via di mezzo qua e mi disegno vedete? mi disegno il petalo e lo vado a tagliare ed è questo qua vedete? ora prendo il mio colore e diciamo do un po' di colore nel contorno così vedete? ora apro il mio fiore e questa è la forma che dovete avere in pratica queste ok? ora dobbiamo dargli altro colore io ho accartocciato così così poi stendete bene ancora mi raccomando attenzione a non rompere la carta e avrete un fiore tutto stropicciato ora sempre col colore io uso questo io uso questo sporchiamo la carta così vedete che ha dato questo effetto più scuro più chiaro prendo prendo l'acqua e spruzzo inumidisco un po' il foglio tampono con un po' di scotte perché altrimenti rimane troppo bagnato prendo il mio trezzino per il fiore lo metto da questa parte qua così nel centro prendo l'altro pezzo e vedete? faccio questo movimento qua ecco qua e vedete? andate a togliere ora è bagnato e dobbiamo asciugarlo con questo cioè io asciugo con questo per accelerare però generalmente io le lascio asciugare all'aria passiamo all'assemblaggio adesso io questo lo metto da parte e vi faccio vedere che ne avevo già preparati tre e in questo qui invece ne ho preparati tre grandi e uno più piccolo poi sta a voi come più vi piace per ora vi faccio vedere questo tagliamo un pesetto di un cerchietto di cartone poi includiamo i primi da un po' di colla e il primo vedete? un altro po' e cerchiamo di mettere un po' il fiore così così mettiamo il terzo un po' Grazie. O qua. Ora posiamo dei cinti. Siamo mettere questi. Così. Oppure ci mettiamo. O una a questi. Ecco qua. Il fiore è finito. Lo aggiusto un po'. Ecco fatto. E questo è il fiore terminato. Spero di essere stata chiara. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, alla prossima.